www.google.it I nostri DNS elaborano o risolvono questo indirizzo andando a cercare nel loro database quindi ci condurranno all'indirizzo IP collegato a www.google.it Cambiando questi DNS non solo potremo quindi evitare la censura di alcuni siti ma potremo velocizzare la nostra linea internet più che altro andremo a diminuire il ping, la latenza questo è molto utile ad esempio per chi gioca online non andremo quindi a velocizzare il download o l'upload questo dipende esclusivamente dal provider che andremo ad utilizzare e dalla velocità della banda che esso ci mette a disposizione a tra poco sul desktop con la configurazione bene ragazzi eccoci sul desktop prima di passare alla configurazione dei DNS facciamo qualche testo con quelli standard andiamo quindi sul browser e scriviamo speedtest e andiamo su speedtest.net un sito che ci permette di testare il nostro ping e le velocità di download e upload le velocità di download e upload comunque non saranno influenzate dai DNS in quanto si basano sulla potenza della nostra connessione una volta caricato andiamo su inizio a test clicchiamo e aspettiamo i risultati bene come vedete abbiamo un ping di 56 millisecondi il resto dei test non ci interessano quindi possiamo chiuderli adesso cambieremo i DNS e rifaremo il test e vedremo se i risultati saranno migliori andiamo quindi su start pannello di controllo centro connessioni di rete andiamo qui in alto a sinistra modifiche impostazioni scheda clicchiamo sulla nostra scheda tasto destro proprietà scendiamo più giù e andiamo su protocollo internet versione 4 tcp slash ipv4 clicchiamo facciamo proprietà e andiamo qui utilizza i seguenti indirizzi server DNS mettiamo il pallino noi utilizzeremo i open DNS quindi come server DNS preferito scriviamo 208.67.222.222 mentre come alternativo scriviamo 208.67.220.220 facciamo ok facciamo chiudi chiudiamo andiamo di nuovo sul browser speedtest di nuovo speedtest.net il valore che ci interessa è il ping aspettiamo il caricamento ok clicchiamo e aspettiamo i risultati bene abbiamo un ping di 52 millisecondi il resto dei test possiamo interromperlo come avete visto abbiamo guadagnato 4 millisecondi direte voi solo 4 millisecondi dopo quella configurazione beh ragazzi è solo sulla mia linea in quanto io abito in provincia sono piuttosto lontano dalla centrale e la mia linea mi dà non pochi problemi e come vedete c'è stato comunque un miglioramento ho provato ad usare gli open DNS su computer che sono in città o più vicini alla centrale e sono passati da ping di oltre 200 a ping di 50 o 60 quindi 4 volte un ping più basso è una cosa davvero eccezionale consiglio anche a voi di provare gli open DNS fate dei test e fatemi sapere come vi trovate fate anche delle prove magari nella navigazione oppure a giocare in multiplayer noterete che sarà tutto molto più fluido bene ragazzi per quanto riguarda i DNS è tutto spero che il video vi sia piaciuto spero sia stato utile voglio ricordare che sul mio primo canale lì sui long è possibile trovare molti altri video tutorial e consigli utili sul mondo dell'informatica mentre sul mio secondo canale dell'e-gamer di cui potete trovare il link giù in descrizione potete trovare molti gameplay commentati dal vostro lì mi raccomando seguitemi anche su twitter sono youtuber lì ci becciamo al prossimo video bye bye